Buon pomeriggio, domenica pomeriggio caratterizzata da traffico intenso per i rientri dal fine settimana agevolati dallo stop e camion fino alle ore 22 di questa sera complicati da avverse condizioni meteorologiche in particolare dalla Grandine tra Bologna e Altedo, tra temporali in atto sempre tra Altedo e Rovigo e vento forte, vi segnaliamo sul raccordo a 13 Porto Garibaldi tra Bologna e Ferrara e tra Altedo e Ferrara, peraltro c'è la chiusura, quindi l'interdizione a Telonati, Furgonati e Caravan proprio in questi due tratti che poc'anzi vi ho menzionato. Le altre notizie riguardano la 10, la Genova 20 Miglia l'autostrada dei Fiori perché ci sono code per 4 chilometri motivate da cantini di lavoro tra Borghetto Santo Spirito e Finale Ligure. Due incidenti complicano la viabilità sulla 4 e al momento ci sono 3 chilometri di code per un incidente tra un'auto e una moto tra Cormano e Sesso San Giovanni. Traffico intenso anche sempre sulla 4 però nel tratto Venezia-Trieste tra Meolo e la tangenziale di Mestre. Un chilometro di code per lavori tra Pontremoli e per Ceto sulla 15. Mi fermo qui, grazie per l'attenzione, monitoriamo il real time, un solo tratto dell'autostradale all'altezza della 4 altezza di Cinisello. Come vedete il traffico intenso proprio per i rientri dal fine settimana. Grazie per l'attenzione, guidate con prudenza e a voi tutti un buon proseguimento con l'informazione di Rai News. Arrivederci.